Entro le ore 12 del 15 settembre 2022 potranno essere presentate le proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022 tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del comune direttamente da parte del proponente o attraverso raccomandata corricevuta di ritorno indirizzata al comune di Caltanissetta, Corso Umberto I numero 132-9300-Caltanissetta, direzione quarta, ufficio ragioneria. Con l'indicazione bilancio partecipativo 2022, progetto area tematica, indicando per l'appunto l'area tematica del progetto, oppure infine tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.caltanissetta.it. Ogni cittadino residente a Caltanissetta dai 16 anni in su in forma singola associata può presentare un solo progetto per ogni area tematica scelta tra quelle che hanno ottenuto il massimo delle preferenze nella votazione dei cittadini, e cioè cultura, cura e bellezza del centro storico e poi pari merito al terzo posto sport, sviluppo economico, tutela e benessere degli animali. I progetti inoltre che dovranno prevedere un costo massimo omnicomprensivo di 8.000 euro dovranno contenere degli elementi fondamentali, e cioè il titolo, finalità obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma e descrizione delle attività di durata non superiore a 12 mesi e il dettaglio delle spese sarà poi una commissione valutativa composta dal segretario generale o un suo delegato, dal dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini e dal dirigente della direzione ai lavori pubblici, ad esprimere il parere sulla fattibilità di ciascun progetto in base alla chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con le aree tematiche, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione, compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione, la fase successiva e poi un ulteriore avviso pubblico con i dettagli sui progetti ammissibili e le modalità e termini di votazione degli stessi.